Il problema più grande innanzitutto è che lì c'è una secca che qualsiasi barca non conosce il fondale, entra dentro al canale, rimane là. Succede ai yacht, succede ai barchi da pesca, il problema è anche quando c'è il mare che le barche vanno per aria con la prua, quando riscendono giù sbattono sulla sabbia e si rompono, è un grosso problema. La situazione non è per nulla cambiata rispetto a due mesi fa, possiamo anzi dire che la situazione è tra virgolette peggiorata, in ragione del fatto che le altre mareggiate che si sono seguite in questi ultimi mesi hanno ancora di più aggravato, una situazione già difficile. Il sindaco di Anza si limita esclusivamente a sollecitare tutti i giorni la regione perché il Porto è un Porto regionale, perché si provveda a rimuovere l'insabbiamento. Sappiamo che il comandante del Porto si è interessato, anche il sindaco si sono interessati per sollecitare il dragaggio alla regione, ma è un fatto di fondi, di tempi, di tempi che si è interessati a dare un insabbiamento che si verifica ogni volta che c'è una mareggiata da mezzogiorno, lì beccio, la sabbia tende a entrare nel Porto. Perché ogni mareggiata che fa, la sabbia, quel banco di sabbia avanza di un paio di metri, ogni mareggiata e chiude tutto, si arriva al punto che chiude tutto. La modificazione della correttometria, l'edificazione dei litorali, porta a delle perturbazioni su quello che è poi la deposizione dei sedimenti lungo il litorale. Anzio nel tempo si è sempre mostrato un Porto dove alla sua imboccatura periodicamente è necessario effettuare degli interventi di dragaggio. Il Porto di Anzio sta subendo una procedura lenta ma inesorabile di insabbiamento che impedisce a qualsiasi unità che abbia un pescaggio superiore ai 3,80-3,50 m di poter entrare in sicurezza in Porto. La procedura è alquanto difficoltosa in relazione al fatto che vi è una canaletta per potervi accedere. Se non viene presa sia in entrata che in uscita in maniera perfetta, ahimè l'accesso in Porto è alquanto arduo. Succede che non ne veniamo a capo. Ogni anno mettiamo una traga che scava un pochino, poi si è levata dopo un mese e ritorna la sabbia in un'altra porta. Praticamente non è con la traga che risolviamo i problemi, almeno penso io dal mio punto di vista, ci vorrebbero dei lavori più radicali. È diventato un casino per entrare quando è tempo cattivo, perché è poco fondale e fa mare grosso, non si può entrare, quindi quando è tempo cattivo già non si può uscire. Purtroppo non possiamo fare nulla, più di questo non si può fare. Le barche non possono più entrare e uscire, si vede, si vede anche, guarda, se ti giri si vede una secchitella dove il mare si muove e là non c'è fondo praticamente. Come se lei passa su un sentiero, no? È largo... Ma la parca la vede, dove è il faro? Vede il faro. Ha questa vedetta dell'esercito che sta entrando, è largo 10 metri, 15 metri, se il tempo è cattivo prendilo. Capito? Quello è il problema. Poi facendo tempo cattivo si riempie essere in sabbia. Poi riscavano, fa tempo cattivo, si riempie e lo riscavano. Così è. Traghetti per andare a Ponza, agli scafi, tutto bloccato. Peccato, con conseguenti perdite economiche anche? Ah, ci picchia. L'altro giorno si è arenato uno yacht che sarà costato qualche miliardo, poi ogni volta che si arenano le eliche fanno danno, le ghiglie fanno danno, è un grosso problema. La popolazione di Anzio e Nettuno, cioè sostanzialmente, principalmente quella di Anzio, vive di pescato, del mare, insomma, tutti i derivati del mare, chi ha le pescherie, chi ha le paranze, chi ha, poi sostanzialmente, tutto si aggira qua nel porto, insomma, tutto il lavoro dei pescatori, di Anzio e Nettuno. E poi questo fatto dell'insavviamento ha ridotto il traffico anche commerciale, sia che il porto di Anzio parte l'acqua per Ponza, le navi che carichano l'acqua per Ponza e adesso non stanno venendo più, le navi passeggeri, i piccoli passeggeri che venivano non vengono più perché hanno un 4,20 m di pescaggio, questa è l'economia che va giù nel porto. Le navi non vengono più, il commerciale non esiste più Anzio, quindi comunque persone pure come il pilota non possono lavorare più, ormeggiatori ce ne stanno più, prima c'erano 20-30 ormeggiatori, non ce ne sta manco più uno, tutte le famiglie che ci mangiavano, le navi vanno tutte a città vecchia, ai porti giù del sud d'Italia e questo è il problema grande delle cose, bisogna scavarlo, bisogna da moto, queste navi da entrare e quindi il commerciale si rilancia. Grazie a tutti. Se non puoi uscire, non esci, non lavori, di conseguenza non guadagni.